Dalle prime ore di questa mattina è stata attivata la cabina di regia presso la prefettura di Salerno alla quale è stato dato il compito del coordinamento tra tutti gli enti e comuni interessati dall'interruzione idrica che a partire da oggi interesterà fino al 25 maggio numerosissimi comuni in provincia di Salerno ed anche il centro capoluogo. A coordinare gli interventi è stato il prefetto di Salerno Francesco Russo che ha spiegato i dettagli del piano per fronteggiare l'emergenza idrica. Abbiamo predisposto un piano che prevede per quanto riguarda le installazioni sensibili, quindi ospedali, case di cura o altri centri che hanno una sensibilità dal punto di vista sanitario, un intervento dei vigili del fuoco con delle autobotti, tre che girano per questi vari punti, centri sanitari. Per quanto riguarda invece i comuni, mettendo insieme otto autobotti da parte fornite dalla regione Campania a protezione civile, più circa dieci da parte dei comuni praticamente, si sono organizzati insieme anche alle società che forniscono acqua ai vari comuni, si è stabilito di affidare ad ogni autobotto un determinato comune o anche più di un autobotto, parliamo di comuni anche grandi, per cui il sistema è stato completato in questo modo qui. Naturalmente serve la collaborazione di tutti i cittadini, sono notevoli gli appelli che tutti stanno facendo. Sì, sì, infatti sì, bisogna, ma beh, diciamo come dire, io ricordo nella mia infanzia ogni tanto, diciamo come dire, queste, diciamo, sospensioni nell'erogazione dell'acqua capitavano di più, insomma non si organizzava, si riempivano i cosiddetti secchi, insomma. Però comunque, diciamo, la protezione civile ha fatto uno sforzo, diciamo, il più completo possibile per garantire comunque che in emergenza o anche, diciamo, anche nell'ordinarietà si possa comunque attingere. Acqua, evidentemente, l'autobotti è sempre non potabile, ma questo è noto, quindi serve per esigenze diverse da quelle alimentari. Però, insomma, diciamo, noi con, diciamo, un buon raccordo e una buona collaborazione da parte di tutti considerando l'importanza, ripeto, come dicevo all'inizio dell'intervento che bisognava fare, abbiamo raggiunto dei buoni risultati, insomma. Possiamo chiederle anche un commento sulla vittoria della Salernitana. Sappiamo che lei ieri era allo stadio e è andato per fortuna anche tutto bene, non solo sul fronte della salvezza della Salernitana, ma anche sul fronte dei festeggiamenti e dell'ordine. Sì, 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 è stato, come sapete, un fine settimana abbastanza faticoso, impegnativo. Noi abbiamo ragionato molto, insomma, però alla fine bisogna sempre guardare all'aspetto della sicurezza, insomma, la sicurezza è bene primaria, insomma. Anche ieri sera allo Stato c'è stato qualche momento, un po' di tensione, insomma, però alla fine è stato tutto quanto si è dipanato bene. Al di là un poco della partita di ieri sera, ma diciamo che non è stata proprio brillantissima, però, come dire, il voto allo studente che si diploma viene dato non solo sull'esame finale, ma sul curriculum. Ed evidentemente la Salernitana nell'ultimo periodo aveva, soprattutto da un certo punto in poi, insomma, aveva un ottimo curriculum che le ha consentite di rimanere in Serie A, quindi dando la gioia a tutti i salernitani, a quelli che amano Salerno, che non sono salernitani, ma amano Salerno, e quindi vedere cose sempre migliori, insomma, noi questo ci auguriamo. Forse sono state bravi alla fine. Io qua ho sentito molti botti, per la verità, durante la notte, però diciamo, alla fine, se c'è stato, ripeto, qualche momento, un pochettino, diciamo, non proprio, diciamo, difficile, però poi dopo alla fine si è tutto dipanato bene. D'altra parte la gioia, i comportamenti devono essere sempre corretti in qualsiasi momento, insomma, ma la grandissima parte dei tifosi è sempre estremamente corretta. C'è qualcuno che qualche volta fa delle cose che sarebbe meglio evitare, anche per, soprattutto, per il bene della salernitana, perché certi comportamenti, tipo i petardi in campo e via discorrendo, possono portare un documento soltanto alla squadra, principalmente alla squadra.